Io mi sento così cattiva perché è come se dentro avessi tutto il paesaggio di cui abbiamo bisogno. Tutto. Tutte le montagne, tutte le valli, tutti i fiumi, tutte le radure, tutto. E' la cosa più bella del mondo. Ma poi tutto sparisce. E a me viene un nervoso. Mi si rizzano i capelli in testa. E' tutto questo perché c'è una distanza devastante tra quello che mi immagino e la realtà. Ma perché non riesco a smettere di pensare? Mi salverebbe. Succederebbe solo quello che succede. Succederebbe soltanto quello che sta succedendo. Se non succede niente. Amen. Invece questo vedere cadere la neve, questo sentire la natura che si muove tutto intorno, che gira tutto intorno. E poi uno dice, ma dov'è? Dove è andato a finire? Mi imbestialisce. Amalia, ma che cosa siamo venuti a fare qui? Succederebbe. 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 Succederebbe.